L'importante è che per sedurre, per conquistare, per far innamorare una persona, quello che devi fare è distaccarti dalle aspettative, dai pregiudizi e da quelle che sono possibili letture, diciamo, oggettive della situazione. Tu devi mai fidarti di quello che una persona ti dice, ma devi sempre fidarti, devi sempre fidarti dei comportamenti, delle azioni, delle espressioni non verbali, dei toni di voce, non devi fidarti delle parole di una persona che ti dice ah ma mi ha detto ti amo, mi ha detto anche io ti posso dire ti amo, non ci va niente a dire ti amo, ma se poi ti dice ti amo, ma poi ti invita il giovedì sera al parcheggio del cimitero, oppure ti dice ti amo, sono innamorato di te, ma continua a stare con la moglie, è inutile che tu dici ah questo mi ama davvero, questo mi ama davvero, perché è col cazzo che ti ama, non ti ama per niente, non gliene frega assolutamente niente di te, sei soltanto per lui, sei soltanto un modo per svuotare i coglioni, diciamo così, questo è un punto di vista fondamentale, sei soltanto una persona, una donna che utilizza per svuotarsi i coglioni e questo è un dato di fatto, se tu vuoi ottenere dei risultati devi imparare a gestire invece e capire quali sono i comportamenti, capire quali sono le cose che una persona dice, le cose che una persona fa piuttosto che le cose che una persona dice. Dobbiamo imparare a persuadere, resistono e a sedurre. Due tipi di seduzione, due tipi di persuasione, c'è la seduzione yin che avviene diciamo per lo più da lontano, dall'attenzione del proprio bersaglio emozionale, è una seduzione più soft, diciamo, per catturare e amplificando, diciamo, delle tensioni emozionali in questa persona e c'è la seduzione yang che invece è una seduzione più attiva, più decisa. Noi possiamo cercare di mixare e di utilizzare sia la seduzione yin che la seduzione yang. Quindi questo è fondamentale. Dobbiamo tenere presente che alcune persone devono essere un po' stimolate. Cosa significa questo? Beh, significa che noi dobbiamo capire quali sono i simboli che governano l'altra persona. Se voglio, se ho a che fare con una persona che è stimolata dalla figura materna, cioè la figura materna per lui rappresenta quella figura seduttiva, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, allora quello che devi fare è utilizzare una seduzione yin, cioè devi presentarti come una donna materna, come una donna protettiva, utilizzare un tono di voce morbido, perché nella seduzione yin le persone che si agganciano sulla seduzione yin sono agganciate da un tono di voce morbido, un tono di voce romantico, sono agganciate dal romanticismo. E quindi tutte queste persone che vanno alla ricerca della mamma, anche se sono uomo, mi userò un tono di voce morbido, o cercherò di usare un tono di voce maluma, un tono di voce gratificante. Questo mi fa percepire come una figura accudente, come una figura morbida, come una figura protettiva, e avrò un potenziale penetrativo molto forte nei confronti di questa persona. Quindi questo, ad esempio utilizzando la paralinguistica, ma utilizzando anche gli atteggiamenti, l'abbraccio, il toccare gli oggetti in modo morbido, questo lo coinvolgerà, e questa è la seduzione yin. Se invece ho avuto a che fare con, o ha a che fare con una persona che, diciamo, è influenzata dalla figura paterna, devo usare un tono di voce diverso, devo essere più incisivo, devo dire adesso devi decidere, che cosa vuoi? Ecco, in questo modo, più penetrante, più forte, riesco a sfondare direttamente questa persona. E questa è la seduzione yang. Devo farmi vedere come una persona dura, come una persona paterna, come l'uomo che non deve chiedere mai. È importante utilizzare, diciamo, queste strategie comunicative, ma devo farlo capendo chi c'è dietro all'immagine dell'altra persona. perché solamente in questo modo riesco a conquistare, riesco a sfruttare, diciamo così, delle situazioni molto importanti di una persona. Quindi, devo capire se per quella persona devo usare la seduzione yin o devo usare la seduzione yang. ed è fondamentale questo perché riuscirai a sorprenderti di come, applicando il modello comportamentale giusto, riuscirai a ottenere dei grandi risultati. e questo è una cosa molto importante, una cosa fondamentale, imparare ad utilizzare un tipo di seduzione piuttosto che una seduzione diversa. Questo è fondamentale. Ma devi basarti sempre su dei dati di fatto. Se non impari a usare i dati di fatto, non riuscirai a ottenere nessun risultato poi. ecco quindi che devi amplificare anche le tensioni emozionali. Per dire, una persona vedi che mangia il pollo, dille che il pollo fritto fa male, che non riuscirà, insomma, amplifica, amplifica, amplifica le paure e dai soluzioni. E questo è un punto molto importante. Fatti percepire come una persona imprevedibile, fatti percepire come una persona misteriosa, fatti percepire come una persona che è, diciamo, che attrae altri uomini. Concediti col contagocce. Le donne qua, quando trovano un uomo, purtroppo le malgascione, gliela danno come se non fosse un domani. Gliela danno come se non ci fosse un domani, in tutti i modi, davanti, dietro, sopra, sotto. E questo è un grave errore. Se tu vuoi conquistare un uomo, devi tenere presente che gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, per cui devi dargliela col contagocce, devi dargliela col contagocce e devi andare a stimolare, non a gratificare eccessivamente. quindi darla col contagocce, stimolando il desiderio, è un altro modo fondamentale per attrarla. Ecco, queste sono le principali strategie di seduzione, le principali strategie per coinvolgere una persona. Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Tramasko Ufficiale, seguimi su TikTok, iscriviti e fai donazioni al canale, lo ripeto, se vuoi ottenere qualcosa devi fare donazioni al canale, perché soltanto è dando che potrai ricevere. E nel frattempo... Ehm...